Eccoci qua, siamo sempre con Maurizio Chievato, siamo in viaggio, siamo in Messico, siamo nel corso di immersioni varie, quanto tempo siete rimasti e quanti immersioni quindi avete fatto? Riprendiamo con le immagini. Sì, riprendiamo con le immagini, allora noi abbiamo fatto praticamente una media di tre immersioni al giorno, non abbiamo mai fatto una notturna in questo caso qui, no, perché c'era sempre qualcosa che non andava, più che altro il diving non voleva avere il minimo rischio, il minimo pericolo, ci ha portati sempre in posti elementari perché c'era stato l'incidente la settimana prima, chiaro che c'è un'apertura, un'indagine e via di seguito e pertanto mancava solo che dopo una settimana ci fosse un altro incidente e allora andavano veramente nei pasticci, qui siamo tornati al relitto, dove ci sono i relitti c'è sempre l'acqua torbida. Eh ma infatti ci stavo pensando prima, perché è vero, le immagini prima belle, limpide, nitide, poi dove c'è il relitto che viene anche un po' di angoscia perché magari ti avventuri all'interno con queste acque, come mai questa acqua torbida? Non lo so esattamente, ma penso che sia anche tutta la parte di ferro che si deteriora, perché crea quel pulviscolo minimo e anche poi quello che poi ritorna a far vivere la nave, tutto quello che ci va sopra, sono delle parti praticamente che compongono e creano anche loro delle micro, diciamo, plantone e via di seguito, ecco qui siamo entrati dentro, però entrando dentro basta un minimo, un minimo, una pinnata per terra per alzare tutto il fondo che c'è. Bisogna quindi stare sempre attenti quando si entra in questi… Qui bisogna stare attenti a due cose, quando si entra ci sono sempre dei punti in cui l'aria non ce la fa più a uscire e fa una bolla d'aria nel soffitto, la vedremo un attimo più avanti. Bene, quando si va fuori, così per curiosità si mette la testa fuori, bisogna metterla un po' con attenzione perché può esserci una sporgenza metallica che ti può ferire e uscire con calma, ma assolutamente mai togliersi l'erogatore perché quell'aria può essere altamente tossica. Ah, addirittura. Proprio assolutamente. Ma c'è chi ha commesso questo errore? Eh, difatti è per quello che si dice che è tossica perché qualcuno è stato veramente, ci sono stati anche degli annegamenti perché poi ci crea lo svenimento. Queste sono istruzioni per l'uso che vi danno sempre prima dell'immersione. Sì, sì, ce l'avevano detto anche loro, dice attenzione, guardate, se vedete la bolla uscite, ma però tenete l'erogatore in bocca, quello sì. Viaggiare per il mondo arricchisce la nostra conoscenza e soprattutto il rispetto verso chi è diverso da noi per colore e usi. Assolutamente sì, quindi è importante viaggiare a parte per diletto, ma proprio per scoprire angoli e modi di vedere anche di concepire la realtà diversa. Di come vivono, ma quello che c'è, quando mi sono trovato tantissime volte in paesi poveri, la serenità che hanno queste persone, perché? Perché non hanno la bramosia di fare, di avere quello che abbiamo noi. Loro sono sereni, sorridenti, proprio uno dice ma viviamo meglio noi o loro nella miseria? Cioè me lo son chiesto più di una volta, perché hanno una serenità, ma veramente è da vedere. Ecco, qui torniamo dentro nel nostro relitto e qui abbiamo un pesce imperatore che è classico, proprio tranquillo. Che sembra, ma sembra buio, vabbè perché siete dentro il relitto. Sì, sì, siamo dentro proprio sì. Infatti c'è un particolato, mamma mia, è importante. Qui è Dario, il nostro amico, e qui ecco Francesco che si affaccia, anche lui adesso entra dentro. Però chiaramente siamo un gruppo, eravamo noi più anche degli americani c'erano con noi, eravamo un gruppo troppo numeroso. Quanti eravate? In gruppo, cioè noi eravamo in 10 e dopo hanno aggiunto altre 4 persone e 14 persone sono troppe. Ecco, qui c'è la bolla che dicevo prima, vediamo che c'è la superficie, ecco che vado fuori e porto fuori la telecamera. Questa è una bolla d'aria e praticamente sono rientrato sotto, non ho avuto problemi, l'erogatore me lo sono ben tenuto stretto. Sì, perché poi se uno tiene l'erogatore non dovrebbe esserci insomma problematiche, giusto. E qui è sempre il relitto che si segue. Era abbastanza grande il relitto? Sì, è abbastanza grande e recente, anche e soprattutto era un peschereccio che era fondato. Qui ecco Nicola che ci sta, un altro amico sempre del gruppo. Però se voi guardate appunto a pochissime incrostazioni, qui non siamo a profondi, per cui la luce del sole penetra bene e farebbe già crescere molto. Penso che abbia un dieci anni, quindici anni al massimo ecco di vita in acqua. Ma questo era un peschereccio, quindi affondato per non si sa... No, no, affondato proprio per... è andato sugli scogli, è andato sugli scogli, ha aperto una falla e è andato affondato. Qui vediamo un po' di foto delle otari, ecco qui. La curiosità. Esatto. Sì, ma qui ecco, qui siamo proprio in mezzo alle otarie e ci sono proprio... il fatto di riuscire ad avvicinarsi e entrare nel branco non è stato facile, però alla fine mi hanno accettato, perché come io mi avvicinavo loro si allontanavano. Eccola qua. Eccola qua. Qui vediamo che appunto assaggia la catena, ecco ma proprio si rende conto che non è assolutamente commestibile, come anche quando con noi, che ci viene vicino, eccola qua, questa qui mi apre un po' la bocca, ecco, ma... Sì, forse per giocare. Per giocare, esattamente, esattamente. Ricordiamoci questo, che loro giocano con te, tu non puoi giocare con loro. Cioè, se tu, non so, cerchi di accarezzarle, via di seguito, più avanti siamo riusciti ad accarezzarle, fra parentesi, ma potrebbero allora a quel punto lì possono prendere paura, possono darti un morsicone che può darti fastidio. Ecco, questo è un leone di mare, lo vediamo, più grosso, che si avvicina. Sì, anche il muso è un po' diverso. E le dimensioni cosa saranno? Quasi due metri? Eh, sì, anche un po' di più di due metri così disteso, senz'altro. Ma soprattutto è la massa corporea che è ben pesante, ecco. E quindi vediamo, però, il fatto di stare in mezzo all'ora, a vedere con che maniera si muovevano, questo è veramente... L'agilità in acqua. L'agilità in acqua che avevano. E poi proprio a loro andare sopra le nostre bolle, ecco, loro sono tranquillissime, perché non hanno nulla da temere e se ne rendono conto, perché di subarquei ormai ne hanno visti tantissimi, per cui non c'è nessun problema. Ecco, qui c'è un controluce bellissimo che fa vedere l'acqua quanto era limpida fuori dai relitti. Quanti gradi aveva? Siamo sui 29 gradi. Oh, che bella. Sì, no, bella, 28-29 gradi. Diciamo che è un grado in meno delle Maldive, ecco, grossomodo. Ah, quindi no, pensavo fosse freddina, perché so che questi animaletti stanno sempre al freddì, al freschino. Vediamo cosa ci dicono. Perché non raccontate che la civiltà stecca e maia è stata distrutta dalla chiesa cristiana arrogante che guidava i conquistadores. chiameremo uno storico per affrontare questo tema, anche se ovviamente dopo quando si va in questa località si sa che ci sono stati. Sì, difatti ho seguito molto anche le vicende che ci sono state, le vigliaccherie, come li hanno catturati, ci hanno raccontato di tutto di più, ma per dire veramente abbiamo passato, anche la chiesa ha passato dei periodi veramente neri, proprio che è meglio non ricordare e qui proprio ha fatto dei massacri, cioè non c'è mezza misura, ma veramente, cioè i conquistadores hanno fatto disastri, completamente disastri. Tra parentesi, li hanno sterminati anche portando le malattie che loro non avevano. Sì, tra l'altro sì, anche il banale raffreddore. Sì, 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 da loro li faceva morire. A parte che ci sono stati anche, c'è stata l'inquisizione, sono stati torturati, conversioni forzati. Forzati, esattamente. Però, ripeto, a quell'epoca la vita umana era considerata poco anche da ambo le parti, forse, perché anche la chiesa, cioè consideriamo con le inquisizioni per non dire, mandare a rogo una donna perché la consideravano una strega, la torturavano finché diceva sì, sono una strega, beh, allora tu inizi a torturarmi, ti dico quello che vuoi, cioè il dolore non è facile da sopportare, proprio, assolutamente, per cui proprio sì. E qui abbiamo fatto l'incontro con lo squalo balena. Ah, quindi c'è stato lo squalo balena. Molto ricca di planton. E qui, purtroppo, cosa è successo? Avevo tolto la telecamera dallo scaffandro per fare le riprese da esterno. E è arrivato lo squalo balena, allora ho messo un po' di foto, perché non sono tornato in acqua. Qui vediamo il mare, l'onda del mare che irrompe l'uento del Pacifico. E qui vediamo sempre degli scenari unici, veramente unici, di queste scogliere sul mare, dove proprio non c'è turismo. Siamo andati forse in una spiaggia che c'era un po' di persone, ma le altre spiagge si avrebbero sempre trovate deserte, proprio... Sì, che sono proprio affascinanti. Affascinanti, sì. E dicevi che il mare, e beh, insomma, un po' chiaro, un po' mosso, dove non era protesta la zona. Sì, diciamo che le immersioni le facevamo sempre ridossati, per cui non c'era problema, però il mare ha sempre... Ha dei colori, che poi bisogna dire, in Messico ci sono di quei colori eccezionali, soprattutto quando cambia, c'è il verso il tramonto, oppure all'alba, o quando arriva una perturbazione ci sono dei colori incredibili. Guardate questa otaria, andate in cima a questo piccolo scoglietto. Ma come ha fatto? Come ha fatto, eccolo là, proprio veramente il tramonto del mare, sì. È questo, veramente. Cioè, finché noi eravamo sotto, il nostro barcaiolo pescava e si faceva la cena. Ah, quindi voi cenavate in barca, perché era una specie di troncera? No, 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 diciamo che lui quando rientrava al diving, allora si metteva a posto, ecco, aveva pescato e aveva fatto la cena. Allora, qui è finito il nostro viaggio a questo punto. E qui esattamente, è stato il nostro viaggio veramente bello, è stato quello che poi, vedendo, anche se non abbiamo visto quello che avremmo voluto vedere, abbiamo scelto per andare a fare la famosa crociera Socorro e San Benedito, però il mare lì non scherza, cioè siamo a 500 miglia, 500 sì, 500 miglia, 500 chilometri, non vorrei dire, 500 chilometri più facilmente dalla costa, dove a Socorro hanno fatto un penitenziario, perché così i più turbolenti sono messi lì, non possono evadere, non possono fare niente, quindi sono più tranquilli, ma però il mare, diciamo che è stato un viaggio di otto giorni, quello di impegnativo, quello che abbiamo visto è stato incredibilmente bello, però il viaggio è stato impegnativo. Siamo venuti a casa, tanto per dare un'idea, con un po' di lividi nelle spalle, perché quando si camminava nel corridoio della barca si batteva da una parete all'altra, perché non si riusciva ad andare dritti, quindi sì. Eh vabbè, c'è un'esperienza un po' più pesante. Pesantina, sì. Ripagata senz'altro da quello che abbiamo visto, perché è stato bellissimo. però abbiamo sofferto un po' tutti il mal di mare, senza esclusione, veramente sì. E anche se magari non si rimetteva, perché quando si pensa che uno abbia il mal di mare si pensa che questo si mette a rigettare, no. Però ti crea o quella solorenza, o quel stato confusionale, stato di assopimento. Il mal di mare è migliore per poi per fare un'immersione, assolutamente. Ma siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine. Non parlo più. Allora, prepariamoci per un'altra puntata, quindi questa senza dubbio. Grazie, buon lavoro nel frattempo, perché viaggi non sono ancora nell'immediato in previsione, quindi facciamo il tempo a vederci un'altra volta sicuramente. Benissimo. E a voi quelli telespettatori avete visto la possibilità di scrivere anche al nostro interlocutore, fare delle osservazioni o chiedere informazioni, visto che ormai è un esperto di queste attività. e quindi l'unica cosa che ci resta è un buon proseguimento. La puntata la potete rivedere in replica su web. Maurizio Chievato, grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi. E a voi, a domani come sempre. Grazie. Grazie a voi.